Il settore della nautica da Di Porto resta solido nel 2023, proseguendo il trend di crescita reattiva che ha caratterizzato gli anni post-pandemia. Secondo l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica, il fatturato del comparto industriale, cantieristica e produzione di accessori e motori marini dovrebbe superare il valore record di 8 miliardi di euro. L'Italia è al primo posto al mondo nella costruzione di super-yacht con il 51% degli ordini globali, nel comparto delle grandi unità pneumatiche, della componentistica e degli accessori.